Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo come si fanno le differenze fra date con i fogli di calcolo. Il sistema del tempo nei fogli di calcolo ha rappresentato sempre un pochino un problema perché 10 millesimi fanno un centesimo, 10 centesimi fanno un decimo, 10 decimi un secondo, poi improvvisamente si va a 60 secondi fanno un minuto, 60 minuti fanno un'ora, 24 ore fanno un giorno, 7 giorni, una settimana, 365 giorni, un anno, 12 mesi. Quindi è un sistema un pochino complicato. Allora che cosa è stata introdotta praticamente nei fogli di calcolo? E' stata introdotta una semplicissima convenzione che consentisse di fare dei calcoli decimali fra date perché fare dei calcoli fra date rispettando questo sistema di tempo era un pochino complesso. Qual è la convenzione? E' semplicissimo. Se noi scriviamo per esempio 31 dicembre del 1899, scriviamo questa data qua e facciamo per esempio, vedete, 31 12 del 99, facciamo tasto destro, formato a celle e gli chiediamo per esempio il numero e gli diciamo che il formato della celle è il numero non in data, vediamo che viene fuori il numero 1. Che cosa significa? Che convenzionalmente il 31 dicembre 1899 è stato posto come numero 1. Tutte le date successive rappresentano una serie storica di date incrementali. Lo vediamo subito. Se noi per esempio nel campo data finale facciamo la funzione uguale, oggi, aperta e chiusa parentesi, che ci restituisce la data di oggi, vedete, ci dice il 23 marzo 2022. Se noi facciamo lo stesso trucchetto e facciamo tasto destro, formato a celle, invece che in data, dimmelo in numero, vedete che viene 44.643. Vedete che cosa significa? Che dal 31 dicembre 1899 sono semplicemente passati 44.643 giorni. E' così che riesce il foglio di calcola a fare una differenza fra date, cioè riducendo ogni data ad un valore decimale che è posto convenzionalmente in un sistema convenzionale, in un luogo matematico in cui il 31 dicembre 1899 rappresenta 1. Ecco perché quando facciamo tasto destro, formato celle e cambiamo una data in numero, viene questo strano numero. Questi sono il numero di giorni che è passato dal 31 dicembre 1899 ad oggi, che è il 23 marzo. Allora facciamo così, riportiamolo in data, facciamo tasto destro, formato a celle data, e noi che cosa vogliamo fare? Noi vogliamo vedere per esempio la differenza della data fra il 23 marzo 2022, che è oggi, e un 23 marzo 1857 è data nella quale per esempio Elisha Otis in New York installò, diciamo, inaugurò il primo ascensore commerciale all'interno di un grande magazzino di New York. Allora come si fa? Con la funzione data.diff, molto semplice, si introduce uguale data.diff e poi si segue a tutti gli effetti la guida. Aperta parentesi, la data iniziale è questo, 23 marzo 1857, punte virgola, la data finale che per noi è la data di oggi, 23 marzo 2022, e poi punte virgola, praticamente noi dobbiamo dirgli che cosa vogliamo vedere. Vedete qui ci sono queste letterine da mettere fra le virgolette, noi metteremo qui Y per year, anno, perché noi vogliamo vedere il numero di anni, quindi punte virgolette Y, chiuse virgolette, poi chiudiamo la parentesi, e vedete che dice che sono passati 165 anni, il numero di anni. Quindi fare adesso la differenza fra date con questa funzione data.diff è molto semplice perché è sufficiente fare data.diff, poi mettere la data iniziale da data ai finali e dirgli che entità noi diciamo vogliamo visualizzare. Vogliamo vedere il resto dei giorni? Allora rifacciamola, facciamo data.diff, aperta parentesi, data iniziale, vedete, punte virgola, data finale, punte virgola ancora, questa volta noi vogliamo vedere il resto dei giorni, quindi Y, D, cioè all'interno dell'anno quanti giorni sono rimasti. Per avere un'informazione più, diciamo più precisa, aperta virgolette, Y per year, D per day, chiudiamo le virgolette, facciamo la chiusura della parentesi, facciamo così. Adesso aspettate che abbiamo scritto qualcosa male, abbiamo fatto, ci abbiamo messo una M qui che non c'entra niente. Eccoci qua, 0 giorni, c'è il resto di 0 giorni. Se noi per esempio qui mettiamo il primo gennaio del 2022, vedete che sono passati 164 giorni, 164 anni e 284 giorni di resto. Quindi qui è sufficiente ogni qual volta mettere un data.diff con questo argomento diverso, che è spiegato Y o D o YD, e vedete che non solo viene il numero di giorni, ma viene anche il numero di anni, ma anche il numero di giorni. Se qui per esempio scriviamo 10 giugno 2022, vedete che ci dice che da quella data in cui per la prima volta Elisha Otis, l'inventore dell'ascensore, installò un ascensore in quel grande magazzino a New York, sono passati 165 anni e 79 giorni. Quindi molto importante questa funzione data.diff, è perché questa funzione sa per esempio in quale anno febbraio, per esempio è durato 28 giorni, 29 giorni, sa tutti i giorni dell'anno, quindi è così che si fanno dei calcoli precisi al giorno, con data.diff, data iniziale, punte virgola, data finale, punte virgola, l'argomento fra le virgolette, Y per esempio per l'anno e YD per il resto dei giorni. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo seguito fino alla fine, spero sia stato di vostra utilità, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.